Buongiorno. Per niente. Buongiorno. Per niente, te l'ho già detto. Ehi, un momento. Ma cosa... C'è solo una spiegazione possibile. Sono ancora a letto a dormire e sto facendo un incubo terribile. Svegliati! Allora, sentiamo. Tu come ti chiami? Mi chiamo SpongeBob. Molto piacere. Che storia. Ci assomigliamo e abbiamo anche lo stesso nome. Sono già due cose che abbiamo in comune. Ho sempre desiderato avere un gemello. Di un po'. Ti piacciono le bolline. Oh, ne vado matto. Cacciare le meduse? Al mio passato preferito. E che mi dici di Squiddy? Preferisco lasciar perdere. Ho deciso che ti chiamerò così. Io due. Ciao, Spongecopia. Ti vedo in forma. Hai scoperto la formula segreta. Non posso rivelartela se è segreta. Ma posso dirti il mio nuovo nome. Io due. Io due? Ecco, lo sapevo. Sono solo un idiota. Ma gli dovevo permettere di conoscere lo SpongeBob originale. Non mi darà mai la formula. È il momento di modificare il mio piano. Buongiorno, Mr. Krab. Mi può dire la formula segreta del Krabby Patty? Vuoi che ti dica la formula segreta? È una grande responsabilità, sai? La formula segreta. D'accordo. Se me lo chiedi così, vieni più vicino. Gliela sto dicendo. E per il resto la saprò anch'io. Sento già il sapore della vittoria. Aspetta. No. No! Formula segreta. Formula segreta. Guarda, chi c'è qui? Un altro SpongeBob. Allora ti chiamerò io tre. Andiamo a preparare i carabbi fatti. Per la barba di Nettuno! Anche questo SpongeBob ha dato retto agli altri due. Quello che mi ci vuole è un esercito di SpongeBob. Un intero esercito di SpongeBob ai miei ordini. Marciate! Marciate, miei pro di SpongeBob. E scoprite la formula. Formula segreta. Certo che vi moltiplicate più in fretta dei ricci di mare. E va bene. Silenzio. Ora vi dico la formula segreta, ma per l'ultima volta. Per l'ultima volta. E adesso che avete imparato la formula, tutti al lavoro. Che io devo calcolare le buste paga. Sì, al lavoro! Tutti loro conoscono la formula. Faccio io. Grazie, che gentile. No, faccio io. Ok. Lasciali, prendo io. Bravi, ormai avete tutto sotto controllo. Ehi, non hai un bel colore? Vuoi che ti porti a casa? Dove abiti? Al Chambucket, vengo da lì. Al Chambucket? Fra poco avrò la formula. Fra poco avrò la formula. Plankton, IO2 mi ha detto che l'hai creato con la fotocopiatrice e che l'hai mandato qui a rubare la formula. È un'accusa ridicola. È completamente infondata. Oh. Devi aiutarlo. Secondo me si sta ammalando. Mi sento sempre più strano. IO2! IO2! Che gli è successo? Dovevo aspettarmelo. Per risparmiare ho voluto usare un inchiostro a basso prezzo. Cosa vorresti dire? Che il mio piano geniale è andato in fumo. Perché tutte le coppie di SpongeBob svaniranno nel nulla. Svaniranno i miei nuovi amici. No, perché? No, non svanire. No. Presto, prima che tu sparisca, dimmi la formula. È facile. Prima si prende. Ho una strana sensazione. Aspetta. No! Tu, la formula! 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 La vita non è che un'ombra che cammina.